benvenuti sul funkitaco io sono tairanto e visto che io trizio deuterio siamo tre siamesi in un corpo solo faremo anche qua il quiz del mio quirk che avrei sembrava ghost rider era naruto mi sono cagato addosso qui c'è goko che mi guarda male deco che mi guarda male il fantasma di boob psycho che mi guarda male tutti che mi guardano male madonna ma che odio verso di me è la madonna guarda con le braccia alzate vedete tairanto fai schifo figlio di schifo mineta che piange e soffre guardandomi ma ma io vi ammazzo la famiglia e che cazzo è successo start e ma io pensavo ok quale sarebbe il tuo ruolo nella società voglio essere un eroe che salva la gente voglio essere un cattivo voglio usare il mio potere nella vita di tutti i giorni che cazzo me ne frega salvare la gente guarda come mi guardano quale tipo di quirk preferiresti e che grazie al canale allora tanto vale mi dici questo generazione generare e controllare le cose trasformazione mi cambia il corpo mutante sono le alterazioni permanenti del corpo sinceramente sai cos'è sai cosa c'è c'è un mondo nuovo che aspetta solo noi adesso che ci siamo voi ma si trasforma trasformiamoci brevemente cioè immagina che so tu vai in banca però prima di entrare in banca diventi ubama e tutti dicono ah mister president dacci soldi bastardo e continuano a menarmi perché effettivamente è stato un piano di merda ma è però dai mi piace masochismo quale sarebbe il ruolo primario del tuo quirk offensivo voglio essere lì a menare la me la gente difensivo voglio essere in grado di proteggere me e gli altri anche se c'è ida che mi manda a fanculo col saluto mezzo nazista supporto voglio aiutare i miei amici a ottenere le grandi cose grandi cose tipo il container di burro ma io voglio menare la gente perché lo zoom nell'orecchio cosa devo vedere e vabbè quanto ti spingeresti lontano per i tuoi sogni voglio aggiungere a ogni costo non me ne frega niente non è meglio usare altra gente per fare questo cioè l'ultima è proprio da pezzi di merda però io sono come disse deuterio nel 2004 sono un uomo molto chill non se mi dicono eh ok quale tema sarebbe sarebbe il migliore per il tuo potere raggiungere il picco del limite umano abbracciare le mie abilità naturali controllo degli elementi e controllo degli elementi sgaggio dai però anche le mie natural abilities quanto controllo vuoi sul tuo quirk voglio essere voglio controllarlo tutto I want it all no dai lo voglio tutto che cazzo vuol dire non non essere in grado di controllarlo che tipo di costume vorresti uno semplice o uno tutto sgaggio tutto sgaggio dai che cazzo vai in giro col pigiama no tu devi essere lì con tutti le robe sgagge le catane che non ti servono le pistole le tasche 300 tasche come negli anni 90 che non sono mai servita a niente quanto vuoi allenarti per apprendere il tuo quirk vorrei che sia il meno doloroso possibile me lo imparo o mi alleno tutti i giorni voglio che sia meno doloroso possibile trasformarmi in obama spero che non faccia male cioè dipende perché io vorrei fare così la trasformazione nel senso io sono sempre io ma gli altri vedono quello che vuoi come se fosse un'illusione perché se io mi trasformassi cioè mi dovrei cambiare l'ossatura del corpo ed effettivamente credo che faccia un male della madonna cioè se tu sei alto come obama hai lo suo stesso fisico dici vabbè mi scricchiolo un po' le spalle però effettivamente se tu vuoi essere degrat cali ti spezzi tutte le ossa no grazie non sono a posto quanto è semplice il tuo quirk eh e no non tanto sinceramente devo essere creativo io sono Irfan Jack ah no il mio quirk ma è quello lì di ascoltare la gente non c'entra un cazzo con quello che ho detto allora watch my hero academy on crunchyroll no vaffanculo